Siamo partite preoccupandoci di una struttura nello specifico riconducibile a questa cooperativa che è la RSA di Stia. Da lì, in seguita delle indagini e tutto, siamo venuti a sapere che il non pagamento degli stipendi è una prassi, è una regola in tutte le strutture riconducibili a questa. Oltre 50 dipendenti di Agora che lo scorso mercoledì hanno preso parte all'Assemblea pubblica organizzata dal Comitato Salute Casentinese. L'intento comune è quello di rivendicare il proprio diritto alla retribuzione dopo mesi di pagamenti bancati da parte della cooperativa. Per quanto riguarda la Cassa di Riposo di Stia, siamo riusciti a fargli ottenere lo stipendio di dicembre, ieri l'altro, ovvero quando? Quando abbiamo ricevuto i primi soccorsi istituzionali. Tuttavia, nelle altre strutture possiamo contare dei ritardi ancora più gravi, perché ci sono delle dipendenti che non stanno ottenendo lo stipendio dal mese di ottobre e altre dal mese di novembre. Noi abbiamo fatto innanzitutto una prima assemblea per far incontrare questi dipendenti, dove è stato veramente molto emozionante, perché oltre ad aver avuto il coraggio di richiedere aiuto, si sono incoraggiate a vicenda. E a loro gli abbiamo offerto assistenza sindacale, legale, gratuita e abbiamo presentato tutte le iniziative che loro potranno avviare. Inoltre, il Comitato da parte sua avvierà delle altre iniziative. Innanzitutto, per fine mese organizzeremo una manifestazione, non tanto contro la cooperativa, perché è un caso disperato, a nostro avviso. Abbiamo già provato un dialogo con loro, con i nostri legali, hanno disatteso ogni accordo preso. Quindi manifesteremo verso la Questura e la Prefettura, perché si attivino a risanare una vicenda che va avanti da troppi anni. Inoltre, di parallelo, l'attività istituzionale e politica. Abbiamo richiesto aiuto a tutte le forze politiche presenti sul territorio regionale e ha risposto già appunto la Lega, ma ci incontreremo mercoledì in regione anche con altre forze politiche, perché noi pensiamo che a oggi c'è bisogno solo di una cosa, di unione.